Previsioni per oggi. Al mattino, in pianura, nuvoloso con qualche schiarita. In montagna, nuvoloso con qualche schiarita. Nel pomeriggio, in pianura, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, coperto con possibili deboli piogge. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, in pianura, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso.